I dati di questo materiale di attito sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei minimi della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse del relatore non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. Per tenza su rischi, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita di denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 71% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo training con il CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL EUROPE LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora prima di entrare nel vivo di questo webinar che è presentato da insieme a me c'è il trader indipendente Nicola Para, vi faccio una breve introduzione di TICMIL, vedo che comunque altre persone stanno entrando nella room per seguire il webinar, quindi ne approfitto per prendermi un paio di minuti e presentarvi TICMIL. TICMIL, molti di voi ovviamente già lo conoscono, TICMIL è un broker regolamentato dall'FCI UK con fondi segregati separati dalla società assicurati fino a 85.000 sterline. È un broker non di lindesk, quindi significa che tutte le posizioni vengono girate ai liquid provider senza alcun intervento manuale e la velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,15 secondi grazie ai oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono quindi recuote, limitazioni, potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune, comprese quelle di arbitraggio, scalping, chi più ne ha ne metta e gli sped partono da 0 con commissioni tra le più basse del mercato e non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei server con i vari server di TICMIL, da quello più importante di Londra, poi c'è il Nord Virginia e Tokyo e poi gli altri di backup. Questa un po' potete controllare anche adesso su un sito esterno di MyFXbook per controllare la nostra offerta sia di spread e commissioni rispetto ad altri broker. noterete come quasi sempre le commissioni e gli spread su TICMIL siano tra le più basse rispetto ai vari competitor. Grazie a queste condizioni di training e quindi anche la qualità dell'esecuzione delle operazioni, che è la cosa anche più importante, siamo stati programmati per due anni di fila come miglior broker per esecuzione degli ordini. Quindi sia nel 2018, vedete questo signore che stringe il premio, è il nostro CEO Duncan Henderson, che è nel 2019. Allora, io ho finito la presentazione, quindi adesso passo il monitor a Nicola, quindi Nicola adesso ti passo il monitor. Sì Giuseppe, grazie. Ok, vado su un mostraschermo, quindi direi possiamo chiedere una conferma a chi ci ascolta se si vede la mia MT4 con TICMIL, con qualche grafico insomma in sovraimpressione, tre cambi, euro-dollaro, sterlina e dollaro-yen, abbiamo l'Italy 40, il tedesco, insomma dovrebbe vedersi tutto. Sì, confermano anche in chat. Io Nicola seguirò eventualmente anche le domande in chat in modo tale che se dovessero essere attinente a quello che stai spiegandoti, magari ti fermo per qualche minuto proprio per dedicare quello spazio alle domande. Allora ti lascio la parola, andremo a parlare ovviamente come da titolo del webinar di Money Management e quindi Nicola adesso ci farà vedere un po' di cose, ti lascio la parola. Volentieri Giuseppe, grazie mille, grazie a te, grazie a TICMIL per l'ospitalità durante questo webinar. Vi conosco sempre meglio, devo dire che ogni giorno ho un'opinione sempre migliore del broker, devo farvi davvero i complimenti sinceri. Allora, come dicevi tu, come anticipavi, questo webinar ha l'obiettivo appunto di cercare di dare delle regole semplici e anche facilmente applicabili di Money Management. Non le classiche che possiamo leggere sui più classici e a volte anche, passami il termine, un po' vecchiotti, manuali di Money Management, ma qualcosa anche di più raffinato, di più evoluto e che si adatti meglio anche ai mercati moderni. Quindi questo è quello che cercherò di fare in questo webinar. Chiaramente quando si parla di Money Management, quello che noi dobbiamo andare a considerare sono elementi, sono variabili, quali lo stop loss, lo stop monetario, che per me sono due concetti diversi ed ora lo andrò a spiegare, chiaramente il target, chiaramente la size, e dobbiamo cercare un equilibrio perfetto, il più perfetto possibile, fra tutti questi elementi che vanno combinati fra di loro in quantità, come se fosse una ricetta, con i giusti pesi, rispetto chiaramente a quella che è la nostra versione a rischio, quella che è la nostra emotività e a quello che è il nostro capitale di trading. E adesso chiaramente vado ad entrare nei dettagli, mentre l'euro dollaro, Giuseppe, lo guardavamo prima della diretta, e continuo a macinare nuovi minimi. Allora, scusate, No, no, dicevo perché l'euro dollaro lo seguivo insieme ai trader con cui abbiamo la chat di Telegram, avevo dato come oggi un possibile approdo a 10,50, quindi ha rotto anche i 10,50, quindi adesso lo vedo a 10,40. Il target ampiamente ha raggiunto, Giuseppe, direi che non hai sbagliato di una virgola. Ottimo. Ogni tanto ci prendo. Bene, bene, bene. Allora, riprendendo quindi il discorso, dicevo, direi di partire dalla size. Dalla size, cioè dalla quantità che noi decidiamo di andare a tradare, dalla quantità che noi decidiamo di comprare o vendere, per ogni strumento che andiamo a tradare. Chiaramente la prima considerazione che dobbiamo fare è io ho un capitale di, facciamo un esempio, di 10.000 euro o 10.000 dollari che siano. Dobbiamo subito pensare se andremo a tradare più di uno strumento in contemporanea oppure no. E già quella è una variabile che può fare la differenza. Io personalmente seguo più strumenti in contemporanea, poi tipicamente quando ho un segnale da mio protocollo operativo su uno strumento, mi concentro solo ed esclusivamente su quello e quindi ne trado uno alla volta, uno in contemporanea. E' anche vero che però posso avere, oltre ad una trade intraday aperta, aperta alle 10, alle 11 di mattino, nel pomeriggio, eccetera, posso avere contemporaneamente, contestualmente, una trade multiday, aperta su un altro strumento che sta andando avanti da giorni, con una logica appunto su grafico giornaliero, quindi con orizzonti temporali diversi. E quindi tipicamente possiamo trovarci al mercato con più di un'operazione. Qual è il mio consiglio per trovare un giusto equilibrio? Su un capitale da 10.000 euro, ipotizzando che noi chiaramente possiamo sfruttare l'effetto leva che il broker ci dà la possibilità di avere, di utilizzare, il mio consiglio è quello di andare a tradare un controvalore per ogni strumento che non sia mai più del triplo del nostro conto trading. Quindi se noi abbiamo un capitale da 10.000 euro, possiamo arrivare a tradare un controvalore di, per esempio, 30.000 euro, 30.000 dollari di euro-dollaro, quindi stiamo parlando di 0,3 lotti, ma non di più. Quindi questo come diciamo, come regola generale. Chiaramente se noi stiamo utilizzando, stiamo sfruttando una leva che può essere per esempio 1 a 10, che ci permette di utilizzare il nostro broker, chiaramente noi stiamo comprando e vendendo un controvalore di euro-dollaro pari a 30.000 euro, ma attenzione che con la leva 1 a 10 noi abbiamo un margine bloccato, un utilizzo del nostro capitale non pari a 30.000 euro, ma pari a un decimo, quindi pari a 3.000 euro. Quindi col nostro conto da 10.000 euro, in questo modo, sfruttando semplicemente una leva 1 a 10, possiamo arrivare a tradare anche tre strumenti in contemporanea, ok? Perché dei nostri 10.000 euro noi abbiamo solo 3.000 occupati, diciamo, come margine, per non andare in margin call, ok? Solo 3.000 occupati dalla nostra trade di euro-dollaro, possiamo arrivare addirittura ad utilizzare tre strumenti in contemporanea, arriviamo a 9.000 euro ed è comunque meno del nostro capitale. Quindi questo diciamo come regola generale, di size da utilizzare. attenzione che se questo è un buon rapporto, un buon equilibrio per spingere e sfruttare l'effetto leva, ma senza esagerare, un buon equilibrio fra size capitale e margine accantonato, margine richiesto, attenzione che la size deve essere anche proporzionata a Nicola Para, a Giuseppe, a Francesco, a Luigi, ok? Cioè la size deve essere anche una size adeguata a noi stessi. Che cosa vuol dire? Se 0,3 pips di euro-dollaro può essere una size sensata da utilizzare con un capitale da 10.000 euro, 10.000 dollari, potrebbe non essere una size adeguata a noi stessi. Perché con quella size lì noi, appena l'euro-dollaro fa un movimento di un certo numero di pips veloce in pochi minuti, perdiamo lucidità, non riusciamo più a essere lucidi, a prendere decisioni con tranquillità, con serenità sui mercati, perché andiamo subito nel panico, ci spaventiamo, la quantità di euro o di dollari che andiamo a guadagnare o a perdere è troppa e ci manda in euforia oppure ci mette in una condizione di paura e di terrore, evidentemente quello 0,3 lotti è una size troppo grande per noi, noi non siamo emotivamente pronti, emotivamente abituati a quella quantità, a quel controvalore, quindi è una size sbagliata, è troppo grande, dobbiamo ridurla. Quindi anche se magari è adeguata al nostro capitale, non è adeguata a noi stessi, è troppo grande, quindi dobbiamo andare a ridurla. È una size sbagliata perché è troppo grande. Attenzione che chiaramente la size può essere anche sbagliata perché è troppo piccola. Capita molto meno spesso, chiaramente, però a volte mi capita di sentire magari qualche trader che usa delle size talmente piccole, 0,01, che fa le trade un po' così alla Carlona, non ci dà troppo peso, le lascia aperte per giorni, giorni e giorni, mentre dorme, mentre fa le chiacchiere col vicino, mentre fa una partita a calcetto e allora a quel punto la size non ha senso, è una size sbagliata perché è troppo piccola. Non stai facendo trading, non lo stai facendo in maniera seria, mi viene da dire con una battuta, comprati un gratte vinci da un euro che fai prima. Anche la size troppo piccola è una size sbagliata perché non gli si dà la giusta importanza e non si segue la trade con la dovuta cura e la dovuta attenzione. Chiaramente Giuseppe, se ci sono domande in chat, come dicevi tu, è anche bello interagire con gli ascoltatori, interrompimi pure che rispondiamo volentieri. Assolutamente, sì. Per il momento comunque non vedo delle domande, si va abbastanza chiaro quello che hai detto, condivido anche appieno l'utilizzo di una size comunque che non sia troppo alta, quindi poi noi siamo sotto esma, ovviamente molti trader cercano comunque una leva sempre elevata fino a 500 e avete visto come un trader comunque professionista come Nicola Para abbia comunque sostanzialmente detto di non lavorare oltre leva 3, quindi è una cosa che deve essere chiara a mio avviso, quindi non andare a esagerare con la leva proprio perché poi si rischia di arrivare subito alle margin call e quindi non si dà il giusto respiro allo strumento, quindi non c'è assolutamente di esagerare con le varie size, quindi non è che se abbiamo 1000 euro sul conto ci mettiamo ad aprire un lotto perché il margine è di solo 100 pips e quindi è vero che all'esempio euro-dollaro ultimamente si sta muovendo comunque in un range abbastanza stretto, però tenete in modo che 100 pips li può fare anche in due giorni e quindi si comunque rischia facilmente la margin call e poi lo scope out che ho notato Nicola che purtroppo queste due cose non sono molto conosciute dai trader anche se stanno operando sui mercati da diversi mesi, diversi anni, però ancora non hanno chiaro il concetto di margin call e stop out. Io su quello ci ho fatto magari andate a vedere su YouTube perché è interessante soprattutto poi adesso con le nuove direttive che ha messo l'ESMA sullo stop out. Giuseppe, assolutamente sacrosanto, se noi con 1000 euro come dicevi te andiamo a tradare 1000 euro, 1000 dollari, andiamo a tradare un lotto di euro-dollaro sostanzialmente stiamo tradando 100 volte di più, quindi con una leva sostanzialmente a 100, 100 volte di più quello che è il nostro conto trading. Se la matematica non è un'opinione ci basta un movimento dell'1% per andare in margin call, per azzerare e bruciare totalmente il conto. Quindi stiamo parlando di un movimento che, va bene, le valute di solito in percentuale magari si muovono meno di un indice o meno di un'azione, sicuramente è vero, però l'1% lo può tranquillamente fare in un giorno di mercato. È un movimento assolutamente plausibile. Tra l'altro, se vuoi Giuseppe, ricordiamo magari i limiti dentro ESMA che cerca di tutelare anche la sicurezza e il rischio dell'investitore. Sì, non a caso, se guardate, fate un raffronto tra le percentuali dei trader perdenti prima dell'ESMA, perché TICMIL ogni tre mesi è obbligata comunque a pubblicare le percentuali dei perdenti, dei trader che perdono con i CFD. Se guardate al dato appena pubblicato subito al giorno dopo ESMA, la percentuale su un broker comunque già ISN come TICMIL era intorno al 81%. Adesso, con i mesi che sono comunque passati, i vari mesi, la percentuale è al 72%. Quindi abbiamo avuto quasi una riduzione del 10% dei trader perdenti. E sicuramente una delle cause imputabili è la leva, proprio perché prima magari anche va bene che non ci sono barriere di ingresso nel training, quindi chiunque può aprirsi un conto e fare lo pseudo trader, mettere 100 euro e sparare la leva a 500 e rientra comunque tra i perdenti. Però quello non è un trader. Però tenete conto che con l'ESMA comunque abbiamo avuto un 10% di sostanziale abbassamento dei trader perdenti e facendo uno più uno fa due, quindi è sicuramente grazie anche alla riduzione della leva. Proprio perché si ha più margine e si possono comunque concentrare meglio i trader e fare operatività, molto di più di nuovo respire, quindi andare sicuramente ad operare una size più congeniale rispetto a quello che si faceva prima. Assolutamente d'accordo Giuseppe, è una dimostrazione empirica abbastanza evidente. Per esempio, la leva esagerata dà la possibilità al neopatentato, lo dico con una metafora, di correre subito un gran premio di Formula 1. E se un neopatentato corre sulle stesse monoposte, agli stessi livelli di uno come Hamilton, il risultato mi sembra abbastanza scontato purtroppo. Va bene, continuo in questo webinar parlando di un concetto molto classico di money management che è appunto il rapporto rischio-rendimento. Il rapporto rischio-rendimento che si legge continuamente sempre nei classici libri e manualetti di money management, ormai un po' vecchiotti a mio avviso, il classico rapporto 1 a 3. 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, eccetera. Ci dice sempre meno rischiare 1 per provare a guadagnare 2, 3 o 4. Io su questo punto di vista non sono assolutamente d'accordo. E poi magari quando ho finito la spiegazione, Giuseppe, ci dirai tu che vedi magari chiaramente i conti di tanti clienti, quelli che sono, quel 30% che sono vincenti sui mercati finanziari, se effettivamente nella loro operatività usano un rapporto rischio-rendimento 1 a 3 o addirittura usano un rapporto rischio-rendimento 3 a 1. Adesso io dico la mia, chiaramente, e poi sono proprio curioso di sapere se hai qualche dato in merito. Allora, perché a mio avviso il rapporto rischio-rendimento 1 a 3 è totalmente sbagliato e perdente? Perché partendo da un presupposto di base molto semplice che ci dice che i mercati sostanzialmente si muovono in maniera totalmente casuale. Sono la cosa forse più randomica che ci sia, ok? Tra le cose misurabili. I mercati finanziari si muovono come un random wall, che si dice, è una distribuzione statistica che sostanzialmente indica un atteggiamento, un movimento casuale, randomico. Se noi partiamo da questo presupposto, dal momento che ci troviamo a un determinato prezzo, è molto molto più facile da quel prezzo arrivare a più 1 oppure arrivare a meno 1. Quindi se noi utilizziamo il classico rapporto rischio-rendimento 1 a 3 che l'abbiamo ormai sentito, trito e ritrito in tutte le salse, noi avremo un'alta probabilità di arrivare a quel più 1 o a quel meno 1 che per noi corrisponde al nostro stop, al nostro rischio. Rischiamo 1, quindi il nostro stop è 1. E sarà molto più difficile arrivare a più 3 o a meno 3 che è appunto il nostro rendimento, il nostro target, semplicemente perché 1 arriva prima di 3. Detta così veramente è un concetto molto semplice che fa quasi sorridere, ma spesso è trascurato. L'utilizzo del rapporto rischio-rendimento 1 a 3 ci fa incorrere in una quantità talmente elevata di stop a 1 e di pochissimi target a 3 che nel lungo periodo non è statisticamente assolutamente profittevole. Molti potranno obiettare che basta semplicemente su 10 operazioni, farne 3 a target, se noi abbiamo un rapporto rischio-rendimento 1 a 3, noi facciamo 3 operazioni su 10 a target, quindi facciamo 3 per 3 9 punti, le altre 7 che sono andate a meno 1 ci fanno appunto perdere solo 7, 9 meno 7 noi siamo comunque in guadagno. Ma purtroppo, e questo ve lo dico perché ho fatto dei test, dei backtest sui grafici con operatività casuale, quindi ipotizzando delle entrate dei buy e dei long e degli short totalmente casuali, semplicemente concentrandomi sul rapporto rischio-rendimento 1 a 3, voi vi rendete conto che, backtestando come ho fatto io, è assolutamente, praticamente impossibile riuscire ad andare a target 3 volte su 10. personalmente io ho un rapporto rischio-rendimento che è di 2 a 1, cioè faccio praticamente non quasi il contrario del rapporto rischio-rendimento 1 a 3, ma comunque vado ogni volta che faccio un'operazione a rischiare 2, quasi 2, 1,9, il mio dato personale aggregato dopo 12 anni di trading, io mediamente vado nelle mie trade a rischiare 1,9 per guadagnare 1. quindi il rischio è sempre maggiore del rendimento, del target, ma la probabilità è quella che fa la differenza, perché essendo molto più vicino quell'1 che è appunto il mio target, io lo vado a prendere tante volte, 8-9 volte su 10, anche, mi bastano anche 8 volte su 10, 2 volte su 10 invece vado a prendere lo stop più largo, che è a 1,9, e comunque nel lungo periodo risulto profittevole. Questa è un altro piccolo, diciamo una piccola regola semplice che potete applicare, che potete utilizzare, di money management, che sicuramente migliorerà il vostro trading. Non so su questo Giuseppe, se hai dei dati, hai dei numeri aggregati chiaramente su quello che sto dicendo e magari puoi confermare oppure smentire quello che ho detto, cioè i trader che effettivamente guadagnano, quel 30% che guadagna, ha un rapporto di rischio rendimento di 1 a 3 o magari addirittura il contrario come ce l'ho io? Allora no, il discorso è che io su questo non riesco a risponderti al 100% perché non ho modo di andare a guardare l'operatività dei trader. Si aggregata, aggregata chiaramente. Quello che ti posso dire è che condivido parzialmente quello che hai appena detto, dai, da quella che è la mia esperienza, da quello che vedo io un po', dai vari colloqui, comunque con le attività che fanno i vari trader, quello che emerge è che il discorso che hai detto tu del sito di 1 a 3 è un po' logurante per il trader, nel senso che aspettare che l'operazione arrivi a target e ti guadagni appunto tre volte il tuo rischio, per molti, soprattutto per i trader, a livello discrezionale può essere anche logurante, quindi quando magari prendono due o tre stop di fila poi perdono un po' la disciplina nel seguire quel tipo di operatività e quindi poi tendono a chiudere un po' le operazioni alla perlona senza seguire più il training plan che avevano un po' avevano comunque già programmato. Sul discorso dei trader dati aggregati noi abbiamo il 65% dei trader utilizza degli expert, la maggior parte sono tutti expert a griglia, quasi la totalità a griglia. Il grosso problema, Nicola, è che questi sistemi fanno correre troppo le perdite, in giudizio, quindi cercano poi di migliorare attraverso il prezzo meno di carico e non le stoppano assolutamente, quindi finché, diciamo, la probabilità di un training range dicono che sia del 70% sul mercato, quindi puntano un po' su questo e poi tendono comunque a chiudere le posizioni. Io sono detto parzialmente d'accordo con te perché tu usi un buon rischio, però l'obiezione che ti faccio è che in questo modo devi avere un setup d'ingresso abbastanza pulito, nel senso che tu magari fai, magari se ci fai venire anche un esempio su un grafico, magari tu segui anche qualche pattern specifico di analisi tecnica di price action che ti permette comunque di avere un vantaggio diciamo sull'entrata, quindi abbastanza pulita perché altrimenti poi se invece vai ad operare con un expert che non ha un particolare setup d'ingresso rischi secondo me di andare solo a spendere commissioni e non riuscire poi a guadagnare sui mercati. Quello che piace a me invece che utilizzo io per il mio training è quello di utilizzare sempre un rischio specifico per trade, quindi impostarlo ad esempio non so, 0,15% per trade, 0,30 quello che è, però io poi non metto take profit e cerco di andare a coprire una parte della volatilità dello strumento. Quindi ad esempio se euro-dollaro a settimana mi copre 150 pips mi fa la media di volatilità di euro-dollaro cerco almeno di beccare il 50% di quella volatilità. Quindi in questo modo riesco comunque anche a coprire parte dei costi. Però lì è a guadagnare ovviamente. Però lì bisogna avere comunque una disciplina. Quello che dici tu è molto interessante però secondo me non so cosa ne pensate come in chat però devi avere un setup d'ingresso abbastanza forte di price action quindi magari non so se riesci a farci un esempio. Sì, guarda, volentieri Giuseppe tra l'altro mi hai dato due assist fantastici perché le prossime due tematiche di cui volevo parlare cioè avere uno stop fisso, lo stop monetario e ragionare anche in funzione della volatilità dello strumento che stiamo tradando. E sono due appunto tematiche che volevo affrontare. Per quanto concerne diciamo il mio protocollo la mia operatività, il mio trading quello chiaramente che ho dato prima è un dato aggregato della mia storia da trader della mia operatività. Io ho un protocollo operativo meccanico con delle regole fisse e precise tra cui per esempio lo stop fisso lo stop monetario di cui dopo parlerò e soprattutto Giuseppe e questo è in realtà poi anche questa è un'altra tematica di cui volevo parlare io spesso, anzi mai, uso il target. Quindi ho il mio setup d'ingresso adesso ho spiegato il mio protocollo operativo lo spiego in un giorno intero di corso di formazione quindi farlo in pochi minuti sarebbe difficile però mi preme e mi fa molto piacere dare qualche spunto qualche concetto. Per esempio il target. Io non utilizzo il target. Il target è un limite al nostro guadagno. Se noi vogliamo davvero lasciare correre i profitti noi al profitto un limite non ce lo dobbiamo dare. Se usiamo il target stiamo limitando il nostro profitto. Quindi io per esempio lavoro con lo stop profit che gradualmente alzo o abbasso a seconda che sono long o short per cercare di seguire la trade e provare contestualmente a lasciarla correre dandogli anche un po' di respiro cercando anche di concedergli dei pullback dei ritracciamenti nel suo oscillare avanti indietro ma magari seguire una tendenza rialzista o ribassista e poi per esempio l'altra cosa che faccio è chiaramente con il mio setup d'ingresso e con le mie regole di entrata precise per esempio io te ne dico un'altra Giuseppe quando ho un segnale long o short con tutte le regole precise che la candela deve avere da mio protocollo operativo che sono parecchie e non sto qui a dire se mi dilungherei troppo non entro mai al meglio non entro mai al meglio cerco sempre un'entrata che mi vada diciamo a regalare qualche punto in meno di entrata se voglio comprare o in più se voglio se voglio shortare quindi quello è un altro piccolo elemento che mi mette in una posizione di vantaggio se poi non riesco a eseguire l'ordine pazienza non me l'ha detto il dottore di fare trading vado a fare una passeggiata al parco poche trade ma buone l'importante è entrare già nel migliore dei modi poi la gestione della trade diventa un po' più facile e un'altra cosa che faccio Giuseppe è per esempio quando c'è una precisa configurazione grafica meccanica che appunto anche questa fa parte del mio del mio protocollo operativo vado a mettere lo stop in pari quindi così come non metto un target per non limitare i miei guadagni contestualmente io vado a mettere uno stop in pari non troppo presto perché se no rischio che magari mi butta fuori facilmente io metto uno stop in pari quando si verifica una determinata configurazione grafica che mi può far dire con una certa probabilità di di confidence di sicurezza che ormai la trade ha preso la mia direzione e al mio prezzo di carico se le cose vanno come devono andare non ci deve più tornare quindi io li vado a chiudere il rischio e poi provo a lasciar correre la trade l'altro elemento che uso un altro ulteriore elemento che uso è appunto lo stop monetario io non utilizzo diciamo uno stop loss grafico io lo stop loss grafico non lo metto subito non lo metto subito in macchina guarda ti faccio un esempio adesso provo a prendere un grafico qualsiasi questo per esempio è l'euro-dollaro se io ad un certo punto shorto qua ok dopo questa salita ho questa candela qui che potrebbe rappresentarmi un segnale short io vado a shortare chiaramente i presupposti della mia operazione sono la non violazione di questo massimo ok però a me non piace mettere uno stop loss qua sopra perché cosa succede spesso perché molti shortano questa candela lo fanno in tanti e purtroppo molti mettono uno stop loss poco sopra questo massimo ma cosa succede poi spesso e volentieri che il mercato magari va a fare degli spike qua sopra e torna giù degli spike qua sopra e torna giù e poi scende definitivamente e magari molti trader si sono stoppati praticamente sui massimi hanno perso magari anche pochi punti non hanno perso tanto però cavolo i presupposti della trade non sono decaduti perché alla fine quel massimo seppur sia stato sporcato non è stato effettivamente definitivamente rotto e poi il mercato scende nella loro direzione e cavolo anziché incorrere in una piccola perdita magari potevano realizzare un bel guadagno quindi quello che faccio io è non mettere lo stop grafico sopra questo massimo ok? io preferisco aspettare che il mercato mi confermi e magari mi vada a chiudere sopra quel massimo e a quel punto tutte le mie regole da protocollo operativo di scelta del prezzo di stop loss però solo in quel momento quando il mercato va là sopra con forza con costanza e magari chiude una cannella importante sopra quel massimo allora dico ok adesso devo applicare le regole del mio protocollo operativo e scegliere uno stop loss e quindi lo stop grafico di rottura di questo massimo lo metto solo in un secondo momento navigando a vista quello che faccio come giustamente fai anche tu hai detto anche tu è utilizzare però uno stop monetario cioè abbiamo detto all'inizio che con un capitale da 10.000 euro io posso tradare un controvalore di 30.000 che magari mi chiede un margine accantonato di 3.000 perché sto utilizzando una leva 1.10 allo stesso modo io sul capitale vado a tarare quello che è quello che è il mio stop monetario se ho un conto da 10.000 euro io non posso perdere in una singola trade per esempio 1.000 euro non è possibile non esiste perché faccio 10 operazioni sbagliate e ho zerato il mio conto se io ho un capitale da 10.000 euro dovrò per esempio utilizzare uno stop monetario fisso che ne so dell'1% massimo esagerare del 2% del mio conto e quindi dovrò mettere uno stop monetario fisso a 100-200 euro ok? se questi 100-200 euro sono più in basso di questo massimo che è diciamo il mio stop loss grafico dell'operazione allora forse c'è qualcosa di sbagliato nell'equilibrio fra size e capitale che sto utilizzando capitale che anche size che sto tradando e capitale che sto utilizzando oppure semplicemente è una trade che non mi dà un rapporto con il rischio rendimento favorevole allora magari semplicemente quella trade la scarto e se c'è alcun'altra insomma che mi dia insomma delle prospettive di rapporto rischio rendimento migliori per concludere come ultimo concetto Giuseppe l'altro assist che tu mi hai fatto è proprio andare a se non ci sono domande magari se ci sono domande rispondiamo volentieri se no vado sulla parte diciamo di legame fra size e volatilità dello strumento che sto tradando questo concetto è interessante di size e volatilità allora in chat ci sono comunque alcune alcuni commenti sul rischio rendimento utilizzato che molti in realtà utilizzano anche di un rapporto di 1 a 1 e 5 non so se sì poi ovviamente ognuno poi può tarare in base un po' alla propria operatività quindi hanno diciamo un rischio rendimento un po' inferiore rispetto a magari al rischio di 1 a 2 o 1 a 3 quanti di voi in chat utilizzano il rischio rendimento di 1 a 3 1 a 3 cioè rischio 1 per farne 3 vediamo tra l'altro Deppe attenzione perché poi parliamo di rapporto rischio rendimento ma io spesso anzi quasi sempre non lo so prima quant'è il mio rapporto rischio rendimento perché ti ho detto che non utilizzo un target e se non ho il target io non riesco a definire il mio rendimento mi manca un elemento il rendimento non posso definire il mio rapporto rischio rendimento e questo seppur io abbia un valore medio come ti ho detto di 1 a 1,9 mi permette a volte di fare delle trade che quando sono finite sono riuscito a farle correre talmente tanto lavorando senza target e utilizzando al contrario lo stop profit che alla fine magari il mio stop monetario era 100-200 euro come abbiamo detto prima e sono finito per riuscire a fare un target di 1.000-1.500 euro capita ogni tanto poche volte ma capita e col senno di poi io mi rendo conto che il rapporto rischio rendimento della mia trade è stata magari di 1 a 10 ma è una trade poche trade su tante poche trade sul totale tu parli di aggregato lo scopro solo dopo assolutamente infatti addirittura c'è chi utilizza 1 a 4 come ad esempio donato ma su ogni trade donato utilizzi 1 a 4 poi ci sono una serie di domande che magari le lasciamo per ultimo si rifaccio magari finire il concetto dell'ultimo concetto che volevi esporre così riusciamo anche a chiudere entro le 20 che poi c'è un altro webinar del mio collega polacco quindi vuole il cotwebinar e troppo per le 8 dobbiamo assolutamente finire quindi ti direi ti lascio finire il concetto e poi ti giro le altre domande che sono state fatte volentierissimo Giuseppe anche perché forse è anche il concetto più interessante a mio avviso non se ne parla magari tanto cioè rapportare la size con la volatilità dello strumento allora io ho detto prima conto da 10.000 euro trado un controvalore di euro-dollaro che pari a 30.000 e magari ho un margine diciamo accantonato di 3.000 ok? Bene questo qui può essere diciamo un valore medio un valore standard medio delle nostre trade ma noi possiamo decidere di andare ad aumentare leggermente o a diminuire leggermente questo valore in base alla volatilità dello strumento quindi alle escursioni percentuali medie che i nostri strumenti che tradiamo fanno come possiamo fare questo calcolo online si trovano veramente una marea di siti che possono darci delle indicazioni sulla volatilità media di euro-dollaro della sterlina piuttosto che dell'S&P 500 o del crude oil ok? In linea generale sappiamo benissimo che il crude oil ha una volatilità maggiore per esempio degli indici come l'italiano il tedesco o gli americani gli americani hanno una volatilità ancora per esempio l'S&P 500 leggermente inferiore degli europei il Nasdaq no il Nasdaq è più volatile le valute hanno una volatilità ancora più bassa l'oro ancora più bassa questo in linea generale però noi come possiamo calcolarlo anche sporcandoci le mani vi invito anche magari a provare e a fare dei calcoli e sperimentare perché poi sporcandoci le mani si impara molto noi per esempio possiamo andare ad utilizzare un indicatore molto semplice che si chiama ATR eccolo qua true range ok? il parametro di default è 14 significa che considera chiaramente gli ultimi 14 periodi le ultime 14 candele se lo vogliamo più reattivo andiamo a diminuire questo 14 quindi magari mettiamo gli ultimi 5 giorni e basta se lo vogliamo meno reattivo ma che consideri di più anche i valori tra virgolette storici magari che ne so mettiamo un 22 che è pari al mese al mese solare ok io lascio 14 e vedo che sull'euro dollaro per esempio abbiamo un valore pari a 0,0049 che cosa vuol dire? vuol dire che questo è un grafico giornaliero David vuol dire che l'escursione media dell'euro dollaro giornaliera è pari a 0,0049 qual è il lavoro che dobbiamo fare? dobbiamo prendere questo 0,0049 dividerlo per il valore dell'euro dollaro 1,10 e 48 in questo momento e noi abbiamo l'escursione percentuale media giornaliera dell'euro dollaro una volta che abbiamo l'escursione percentuale media dell'euro dollaro ci segniamo questo valore su un taccuino ce lo mettiamo da parte e andiamo sostanzialmente a fare la stessa identica cosa con tutti gli altri strumenti che noi tradiamo quindi per farla breve arrivo arrivo velocemente alla conclusione ci saremmo resi conto che l'escursione media dell'euro dollaro è mezzo punto percentuale così come quello del dollaro yen della sterlina è 0,6% degli indici magari è dell'1% del crude oil è dell'1,2% a questo punto avendo noi l'escursione media di questi strumenti se noi sappiamo che in percentuale il crude oil si muove il doppio dell'euro dollaro va da sé che noi possiamo non tradare un controvalore di 30.000 euro per l'euro dollaro e di 30.000 euro per il crude oil ma noi possiamo tradare magari 40.000 euro per l'euro dollaro perché ha un'escursione media dello 0,6% al giorno e al contrario abbassare il controvalore tradato sul crude oil a 20.000 euro quindi 40.000 per l'euro dollaro 20.000 per il crude oil la media è sempre 30.000 a strumento trattato a strumento tradato però abbiamo dimezzato rispetto all'euro dollaro quella del crude oil perché il crude oil ha un'escursione media dell'1,2% al giorno mentre l'euro dollaro ce l'ha dello 0,6 quindi concludo abbiamo sostanzialmente proporzionato tarato la nostra size all'escursione media dello strumento più lo strumento si muove e più la size che noi dobbiamo utilizzare deve essere piccola rispetto alla nostra size media ottimo sono abbastanza veloce Giuseppe però spero di essere stato chiaro molto molto interessante quindi sì l'ATR lo utilizzo anch'io è assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo allora Nicola io ti giro un po' di domande tu nel frattempo infatti dicono molto interessante questo punto qui che ha spiegato Nicola ragazzi è molto veramente molto interessante io utilizzo in pips nel senso quel 049 per me sono 49 pips e va bene tengo quel segnale lì però comunque anche con questa formula è molto interessante perché nello stato attuale sapete ad esempio Eurodollar se non sbaglio fatto prima con la calcolatrice viene un movimento dello 044% al giorno più o meno quindi in questo modo Giuseppe trasformando quel valore di pips in percentuale sullo strumento tu puoi andarli a confrontare con tutti gli altri strumenti che tradi e quindi ti facciamo una proporzione 0,4 per l'euro dollaro vatti a fare il crude oil vi renderete conto che probabilmente è il doppio se non di più esatto quindi si ha subito a un colpo d'occhio il rischio anche dell'estrumento in sé allora io TG allora vedo un po' di domande tu se nel frattempo vuoi ricordare il tuo corso se non sbaglio sì sì volentieri Giuseppe come abbiamo concordato con voi con TICMIL c'è uno sconto per chi ha il conto con TICMIL o per chi aprirà un conto con un conto nuovo con TICMIL del 25% o del 33% sul mio corso di formazione sul corso di formazione sul mio protocollo operativo velocemente questi sono i miei contatti quindi potete scrivermi a nicolaparatrading chiocciolagmail.com per informazioni se volete accedere invece ai miei canali gratuiti dove condivido analisi operatività idee appuntamenti eccetera vi vedete in sovrappressione nicolaparatrading è il nome del canale telegram della pagina facebook e del canale youtube ottimo allora ti giro un po' di domande quindi hai esattamente circa 10 minuti per rispondere a prima di dare comunque la linea al collega polacco allora francesco chiede posso chiedere che fornitori usi come dati per test allora dunque io su questo lavoro molto con multichart e essendo la parte diciamo più IT informatica devo dire la verità un po' il mio tallone d'achille ho la fortuna di avere tanti colleghi collaboratori molto più bravi di me che sostanzialmente fanno insomma la parte più più legata ai sistemi informativi la parte più IT al posto mio sono fortunato da questo punto di vista per esempio da poco tempo stanno sviluppando per me stanno provando a sviluppare per me il trading system del mio protocollo operativo con una marea di veramente IF che ci sono da tenere in considerazione perché ci sono mille configurazioni grafiche di fronte alle quali si fanno mille azioni differenti e speriamo di riuscirsi insomma ci stanno provando e stanno facendo un grande un grande lavoro quindi mi affido molto molto a loro ok poi Roberto chiede scusate ma se il mercato si muove a random questo era un po' il discorso che stavi facendo avanti mi è scappata questa non l'ho vista prima questa domanda chiedo scusa allora devo rivedere i concetti che nel prezzo è già scontato tutto che il mercato ha sempre ragione e altri concetti simili se vuoi aggiungere qualcosa dunque allora il random walk Giuseppe è la in statistica è la passeggiata dell'ubriacone che ondeggia in maniera totalmente casuale mentre cammina per la strada ma alla fine della nottata comunque ritorna a casa è molto affascinante come distribuzione statistica il random walk perché appunto presuppone sia un concetto di totale per la strada la strada di totale la strada di totale